1, 2, 3, 2, 1 Sfora! Auguri in Gartland! Vediamo di alzare ufficialmente i telefonini in modalità via e guardare dietro a questa meravigliosa struttura perché stiamo festeggiando il 41esimo compleanno di Gartland! Vorrei un applauso! Dove, dove, dove sono? Mi state vedendo? Signori, è un compleanno fantastico! Siete tantissimi! Guardate i fuochi, sono qua dietro con lo spettatore, io tecnici con altri tempi per un avvenimento così importante che per il compleanno nel parco più importante in Italia e uno dei più importanti in Europa se non il più importante in Europa adesso guardate un altro di fuochi d'artificio è giustamente l'uomo un po' di modalità che si scadrìa questa avete già finito tutto il piede e fatta capire ragazzi, l'unica cosa che vi vedo è che dopo di partire la cosa viene di buona perché io non c'è la vita la salute da lì e vi vedo, se vuoi tanto che li guardate, tanto che li vedete, che guardate io e Ficcio siamo abituati a salutare le regioni a carteggiare ci piace un casino salutare le regioni che non le conosciamo ma soprattutto le regioni che sono qua con noi nel campo di divertimenti più grande d'Europa cioè tipo in che regioni siamo? qui siamo in Veneto io voglio salutare tutti i padroni di casa quelli del Veneto io saluto tutti gli amici del Piemonte ma ci sono, eh? io voglio ringraziare tutti quelli che arrivano da Milano Bergamo, Brescia della Piemonte io e Davol voglio salutare le vini di Armonia ma io sono di moda sei di moda? io sono di moda voglio ringraziare tutti quelli che vengono da, da, da dove sono i tedeschi? da tedeschi io, in tedesco è una regione è una regione nella costa da morire non lo so, non è una regione sta dicendo un po' quest'anno no, altra, no, altra sono dei vici di Ignazio c'è qualcuno dell'Azio vai giù, vai giù, vai giù io voglio salutare quelli che arrivano dalla campagna no sono da più tutti sentiamo la Calabria i ragazzi della Puglia adesso arrivano le regioni di vicino abruzzo, polizia, sono di vicino io volevo dire subito così ma quelli che ho riprodotto Scanna, Firenze, Lorenzo, Pisa, Rivorno e subargarà che c'è là guarda invece Savona, Genova, la Spezia, l'Iberia, la Liguria intanto capite che siamo preparati anche in Geografia sappiamo tutti volevamo salutare tutti gli stranieri facciamo un saluto agli stranieri tu che sei malattico tu che sai parlare in inglese allora noi volevamo salutare tutti gli stranieri in inglese tutti gli stranieri in inglese da quella ragazza da qualcosa, un regalo perché non mi sta urlando io voglio salutare tutti quelli che vengono dalla Spizzera ci sono gli spizzeri tutti gli stranieri che vengono dalla nostra dalla Germania allora con noi io voglio poi dico io devo salutare soprattutto la nostra quelli che vengono no, no, no no, no no, no no, noi, noi signori siamo il paese più bello del mondo questo lo dimostra quindi saluto a tutti gli italiani bravo ragazzi benveno a vedere quanto sento gli italiani così cantosi avete un'idea io sono valente a me piacerebbe cantare il caffè la qualità basta, basta ora basta 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 puoi provare io vorrei provare tutti gli italiani che la sanno cantare non vi stare noi vorremmo inconare questa persona ma vorremmo sentire gli italiani che ci fanno la conoscente quella che fa tutto tutto l'Italia 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 necessario bar riparaturati è un esame po' 好 attaccate l'Italia mai chi fa app big gods IP del Para respire il i rían la